Parrucchieri ed estetisti chiamano la regione Puglia, risponde. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro in videoconferenza tra i rappresentanti di categoria ed il governatore Emiliano, un momento per fare il punto della situazione per quel che riguarda gli artigiani della bellezza, che in questo momento vedono ancora a lontano il giorno in cui potranno tornare a compiere il proprio mestiere, al momento il primo giugno. Sul tavolo diversi temi dalla necessità di ricominciare a lavorare fino agli aspetti riguardanti la sicurezza in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Proprio su questo punto si è incentrata gran parte della discussione, poiché solo garantendo un certo grado di protezione per operatori e clienti si potrà valutare la possibilità di riaprire i battenti in anticipo rispetto alla data del primo giugno o tre giugno, saltando la festa della Repubblica. Un vademecum con i comportamenti da seguire per lavorare in sicurezza è stato già preparato dai parrucchieri ed estetisti della provincia BAT e presentato circa 20 giorni fa alla prefettura. Da allora nessuna risposta, ma ora il programma verrà consegnato nelle mani del presidente Emiliano e al professor Lopalco, insieme ad altre proposte di diversi operatori pugliesi del settore. Il migliore verrà portato all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Siamo al lavoro, ha detto Emiliano, per consentire a questo settore particolarmente delicato di riprendere le attività in totale sicurezza. I rappresentanti di parrucchieri ed estetisti ci hanno già mostrato soluzioni avanzate che saranno esaminate da professor Lopalco per offrire il massimo supporto alla categoria. Nel momento in cui avremo un manuale con regole chiare, approvate dal punto di vista epidemiologico, potremo aprire un dialogo e nel merito anche con il governo, ha concluso il governatore. E' proprio il professor Lopalco che ha partecipato alla videoconferenza potrà recarsi presso un centro estetico ed un salone di parrucchieri per toccare con mano i vari passaggi interni alle attività e mettere a punto criticità e soluzioni pratiche. Ha fatto sapere l'avvocato andriese Laura Di Pilato che ha aggiunto, è indispensabile far riaprire le attività prima del 3 giugno, oppure migliaia di operatori del settore, le rispettive famiglie finiranno sull'astrico. Presente alla conferenza anche il consigliere regionale Filippo Caracciolo che ha rassicurato il presidente Emiliano ha ascoltato il grido di disperazione di parrucchieri, estetiste e operatori del benessere, disponendo l'esigenza urgente di un tavolo tecnico utile ad individuare le linee guida per poter tornare al più presto al lavoro in sicurezza. Lunedì prossimo si terrà una nuova riunione in videoconferenza per ulteriori aggiornamenti e per valutare i protocolli di sicurezza, intanto il dialogo c'è e procede verso una risoluzione che possa accontentare tutti.